bella a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video sono gabri oggi andiamo a fare la prima partita a fifa 20 andiamo a vedere un po di costruire una bella squadra per quanto riguarda l'ultimate team andiamo subito a vedere qua nel gioco allora appena finito di installare il gioco io direi di andarci subito a creare la squadra dell'ultimate team ci andiamo a fare la nostra squadra ragazzi e poi dopo andiamo a fare anche qualche spacchettamento vediamo un po qua che cosa c'è di bello eccoci qua nella presentazione magari se trovo ste carte ragà mamma mia tanta robetta si trova una carta speciale azzardo e bella vediamo a che figata ragà non lo so ragà vediamo un po io mi scelgo ovviamente l'italia scegli il your starter pack l'italia attenzione ragà attenzione ragà stonelli del napoli tonelli del napoli poteva andare meglio eh vabbè se inizia tonelli del napoli ragazzi ovviamente la nostra squadra bisogna costruirla con questi giocatori non è che andiamo molto lontani eh vabbè sturaro dai sturaro già con riccardi vabbè poi che c'è sta qua ma coppia abbiamo blanei il portiere che abbiamo qua albertoni vediamo un po la panchina vabbè c'è da c'è da comprare dei giocatori qua eh allora ragazzi vediamo un po vediamo un po che cosa andare a fare vediamo un po let's let's add it right along to your squad ok adesso dobbiamo costruire la nostra ultimate team non sarà facile all'inizio andiamo vediamo vediamo un pochetto attaccante qua chi ci abbiamo merola 59 non abbiamo un altro Gaetano del napoli ma il manager ah il manager è questo qua francese allora andiamo a vedere un po' che cosa dobbiamo aggiungere qua scegli un giocatore eeeh batte segno del place monaco no va bene ma ma a me va bene così eh per me va bene così attaccante non c'ho niente non c'abbiamo niente perfetto attenzione ragazzi scegli un giocatore uuuh attenzione ah però questo qua è in prestito raga è in prestito cavolo raga quale ci abbiamo i guain fa il caos raga io mi prendo i guain va bene così tanto è in prestito ok mi sta spiegando questo qua che parla ok ragazzi dobbiamo scegliere la nostra maglia non lo so mettiamo questa qua della sandoria per adesso poi ovviamente stiamo ancora all'inizio quindi poi piano piano non so quale maglia mettere mettiamo come seconda maglia mettiamo questa qua dai ci sta mettiamo questo qua ovviamente poi cambieremo perfetto ragazzi allora adesso viene il bello raga praticamente io il gioco l'ho comprato l'altro ieri ma è arrivato l'ho installato e quindi stiamo ancora all'inizio dobbiamo costruire praticamente tutto adesso stiamo facendo la squadra dell'ultimate team la stiamo creando adesso vediamo un po' le ricompense che ci hanno dato con il codice che ho trovato dentro la chiave vediamo un po' che cosa ci regala questo pacchetto allora fifa 19 poi ci sta fifa 19 ok mille coins per 10 match quattro players pack un pacchetto giocatori in prestito ok oh ragazzi incredibile raga praticamente io avevo dei fifa points su fifa 19 quindi possono trasferirmi i fifa points da 19 al 20 foot 19 a foot 20 vai trasferiamo perfetto congratulazione i fifa points sono stati trasferiti con successo adesso ti puoi usare quelli per comprare pacchetti e altre cose su fifa a foot 20 fufufufufu fu su foot 20 andiamo a vedere perfetto ragazzi a eccoli la vedete fifa points 250 ce lo abbiamo j gabry mi chiamo perfetto ragazzi adesso arriva il momento bello non vedo l'ora di farmi la mia squadra dell'ultimate team La squadra dell'Ultimate Team su FIFA 19 era bellissima, c'era un sacco di giocatori forti, vediamo di crearla una bella bella squadra anche qua su FIFA 20 Ultimate Team. Andiamo ad aprirci tutti i pacchetti di oggi, 8 pacchetti ragazzi, speriamo bene, speriamo che escono delle belle carte, mamma mia se escono delle carte rare o non so quello che esce, salto dalla sedia. Attenzione, pensa se trovo Ronaldo, andiamo, iniziamo con quanti pacchetti, ragazzi, questa qua, andiamo con questa, questa qua è una carta icona ovviamente in prestito, iniziamo con questa, dai vediamo cosa troviamo, dai ragazzi, vediamo. Attenzione eh, attenzione ragazzi, tanta robetta qua, intanto andiamo subito a cambiare la maglietta perché qua ci sta, allora, in casa, fuori casa, ci stanno qua i palloni, capitano tango, capitano tango, mettiamo questo qua. Perfetto, questa qua ragazzi, mi piace, la mettiamo come seconda maglia, la prima, la prima... No, vabbè, per adesso teniamo questa della Sampdoria, dai, mi piace, della Sampdoria, il pallone ragazzi, li teniamo tutti, queste qua come oggetti. Allora ragazzi, adesso andiamo a spacchettare tutti questi pacchetti che ci hanno dato, iniziamo subito. Allora, andiamo in ordine, anzi no, non andiamo in ordine ragazzi, io voglio subito andare a spacchettare il nostro icon, icon player pick. Possiamo scegliere, possiamo scegliere il nostro giocatore, ci abbiamo la scelta per questo giocatore icona, ovviamente è in prestito per cinque partite. Attenzione. Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, ovviamente noi che cosa facciamo in questo Ultimate Team? Voglio creare la squadra, come ho fatto nel Ultimate Team in FIFA 19, voglio creare la squadra italiana, Serie A ovviamente, quindi l'intesa deve essere sul campionato di Serie A. Ragazzi, quindi io mi prendo, io mi prendo Inzaghi raga, Maldini, a me serve un attaccante, andiamo con Inzaghi raga, vai con Inzagoni, dai. Tanta robetta, tanta robetta, Inzaghi subito iniziamo alla grande, anche se in prestito, vabbè, però questo potrebbe farci delle belle partite, cinque partite ottime. Andiamo con il secondo pacchetto. Attenzione. Mamma mia, è schifo. Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Chi cazzo è mata? Ma chi è mata? Allora, mata è spagnolo, questo qua, De Bucchi, De Bucchi, come cavolo si pronunciano. Joamy, Junior Keisara, di tacco, sì, di tacco e di spalla, di punta, no, di tacchio, italiano, song. Ragazzi, mamma mia ste carte. Vabbè, che cosa facciamo, vediamo un po', se creassi una squadra spagnola, non lo so ragazzi, non lo so, non lo so, non lo so, dobbiamo vedere tutti gli altri pacchetti cosa uscirà. Poi decidiamo, per adesso c'è solo di tacchio, comunque ragazzi, allora, questo ce lo vendiamo. Poi, questi qua possono servire poi per fare le altre missioni, le sfide proprio per le ricompense con le squadre silver e con le squadre poi di bronzo. Quindi, per adesso ragazzi, ci teniamo tutto, l'unico che vendiamo è questo qua, e poi vediamo, vediamo un po' poi il resto, scegliamo dopo. Adesso andiamo a spacchettare tutto, vediamo un prossimo pacchetto ragazzi, prossimo pacchetto, vediamo un po', vediamo cosa esce. Ragazzi, ragazzi, mi sa che non faccio più la serie A, mi sa che qua, ragazzi, mi sa che facciamo qua la squadra spagnola, mi sa, perché stanno uscendo tutti gli spagnoli, ragazzi. Non lo so, non lo so, ma Sergio Portiere, Sergio Darder, non lo so, non lo so, ragazzi, ma qua Vargas, questa assomiglia a Chico Bomba, un pochetto, un po', sì, tra 5-6 anni, tipo. Ragazzi, io qua, questi qua me li tengo tutti, poi vediamo un po', anzi no, questi qua me li tolgo, questo me lo tolgo, questo non mi serve, questi due spagnoli li teniamo, perché magari, magari, ragazzi, facciamo la squadra spagnola, come stavo dicendo prima, perché gli italiani non ho trovato nemmeno uno, anche se c'ho Inzaghi, vabbè, ma quella è un'icona. Andiamo con l'altro pacchetto, ragazzi, ora se trovo altri spagnoli, mamma mia, vediamo un po'. Non ci credo. E vabbè, ah, ragà, ah, ragà, e che devo fa'a'a', FIFA vuole che, sì, vuole questo, vuole, vuole che quest'anno FIFA 20 vuole che io usi la squadra spagnola, praticamente l'ultimate team spagnola. Perché, guarda, tutti i giocatori spagnoli, questo è ottimo, un portiere buono, questo qua, buono, buono. E niente, a sto punto togliamo questo, togliamo questo, questo lo togliamo, 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 e questo lo teniamo. Perfetto, vai così, andiamo. Mamma mia, ragà, poi magari mi acquisto un bel giocatore. Prossima pacchetto, ragà. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Oggi fa davvero caldo, mamma mia, 33 gradi. Ooooooooh! Zagadu! Zagadu! Ah, poca roba, poca roba! Poca robetta, ragà, poca robetta! Del Milan Conti, Rodriguez, James... Mmm, poca robetta, poca robetta! Kiko Femenia, Femenia... Spagnolo, questo, questo è spagnolo, questo è spagnolo. Non lo so, non lo so, non lo so, ma andiamo via. Italiano, teniamolo. Via, 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 via. Questi qua li teniamo per adesso. Ok. Eh, non so, ragazzi, che squadra fare, eh. Dopo vediamo un po' in campo, facciamo l'intesa, vediamo un po' come va. Prossimo pacchetto, ragà, ma sai schifo? Mamma mia, che spacchettamento di che è? Mamma mia. Dai, dammi una carta buona. Dai, 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 dai! Porca troia! Bold! My bad! Ragazzi, no, Vinicius, Vinicius! Eh, vabbè, ma questi sono in prestito, eh. Questo è in prestito, sette giorni, ragazzi, sette giorni. Mannaggia! Cavolo, pensavo che è, ma questi qua sono in prestito, una settimana, sette partite. Vabbè, vabbè, intanto ce li teniamo tutti, questi qua. Va bene. Mamma mia, che squadra, poi ci devo spendere un botto di sordi per farmi una bella squadra dopo. Vabbè, all'inizio è sempre così, ragà, all'inizio, piano piano. Prossimo pacchetto è dammi qualcosa di buono, dai, cacchio! Filippo Anderson! Allora, ragà, Junior Firpo. Ragazzi, 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 bello è il Mercedes-Benz Stadio. Make this, ah, mettiamo questo qua come stadio. Allora, un altro spagnolo, questo mi interessa, del Barcellona. Filippo Anderson non è male, anche se non fa intesa. Vabbè, per adesso, ragazzi, questi qua ce li teniamo tutti. Vediamo un po', vediamo un po'. Ragà, ultimo pacchetto per quanto riguarda, mi sembra che questa qua, sono le divise. Sì, sono le divise, guardate che belle. Allora, io direi subito di andare a mettere... Giuda the Lion. Allora, questa qua è quella Way. Andiamo a mettere al posto... Mettiamo questa qua. E poi, come prima maglia, direi, di mettere... Questa che maglia è? Che strana maglia colorata. Vabbè, mettiamo questa qua, dai. Fighissima. Tanto mi sa che la serie A non la faccio, perché è un po' difficile come squadra. Non ho trovato un cavolo. Attenzione, ragazzi, ci stanno... No, non ci sta più niente. Abbiamo finito i pacchetti, mannesha. Ci abbiamo 3.300 coins. Belli sti pacchetti. Once to watch, limitato. Ragazzuoli! Ragazzuoli! Abbiamo 250 fiopo points. Andiamo a buttarli qua. Attenzione. Aspetta, però, ragazzi, con 250 di points possiamo prendere anche due di questi. 100 e 150. Ma, non lo so, io mi butterei o due di questi, oppure questo qua. Proviamo il Premium Electrium Player Pack, dai, magari trovo qualcosa. Proviamo. Vai, ragazzi, 250 FIFA points. Let's sghere. Ti prego, dammi qualcosa di buono, ti prego. Dai, FIFA. Forza, FIFA. Dai! Lasagna! No, lasagna, no. Lasagna è baggato, mi sembra. È baggatissimo, lasagna. Lo usavo, lo usavo, lo usavo, in FIFA 19, anche, lasagna. Non era male, eh. Non era male, ce l'avevo. Francese, questo qua non mi serve. No. Lasagna, mannaccia, ragazzi, non ho trovato tanta robetta, eh. Non ho trovato bella roba, ragazzi. Allora, 5800, andiamoci a prendere un altro pacchettino, ragazzi. Andiamo a vedere qua che cosa c'è di bello. Andiamo a vedere un po' qua che cosa c'è di bello. Vabbè, ma queste già le so, queste cose. Sì, 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 già le so, questa qua, la guida, non mi interessa. Ok, ragazzi. Ok, ragazzi, andiamo a vedere un po'. Il portiere. Dai, su, lo so, lo so come funziona. Allora. Il portiere mi serve quello là di prima. Dov'è il portiere di prima? Questo qua. Andiamo a metterlo. Perfetto. Attaccanti. Andiamo subito a mettere i guain. Anche se non c'è molta intesa, però, ragazzi. Proviamo questa partita. allenatore. Ok. Per quanto riguarda gli altri giocatori, qua... Non c'è un cavolo. Qua chi c'è? LB. Perfetto. Ma chi è questo? Ma che caz... Qui cazzo è? 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 Che figata. Come l'hanno fatto bene? Hanno cambiato un po' anche il modo di vendere, qua. Scegli qua, fai così, qui cazzo è? Eh... Quattro, tre... Vediamo un po' qua la formazione. Mettiamo qualche altra cosetta qua. Chi c'abbiamo? Chi c'abbiamo? Eh... Spagnola, centrocampo... C'abbiamo una marea di giocatori, raga. Non so chi mettere a centrocampo italiano. Questo qua non fa intesa. LM. Qua ci mettiamo Filippo Anderson. Qua facciamo così, raga. Boom! Grande, 84. C'ha LM. Da quest'altra parte CDM. Ci andiamo a mettere se ci abbiamo qualcuno un po' più forte. CDM. Madonna questo! Ma che cacchio? Ma che c'ha? Una scopa in testa? Ma che gli hanno fatto? Allora... Sembra una frittata spiace... No, sembra... Come si chiama? Eh... Lo zucchero a velo. No, zucchero filato. Mamma mia. Allora... Mamma mia che schifo di difesa che ciò fa cagare. La difesa fa proprio cagare. LB. Ma chi è questo? LB? Ce sta qualcuno più forte qua? Chi c'è sta, chi c'è sta, chi c'è sta, chi c'è sta, chi c'è sta... C'è un cavolo, ci abbiamo... Mamma mia, chi è questo? RB. CB. CBRB. 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 Monaco. Ma... Meglio Monaco. Dai. Più due. Allora... Qua dobbiamo comprare un giocatore nuovo. Qua bisogna comprare un giocatore nuovo, ragazzi. Compreremo qualcun altro. Intanto qua ci vendiamo un po' di giocatori. Questo qua non mi serve. Secondo portiere, vabbè. Questo qua mi serve al cavolo. Ci lasciamo con questo, niente. Andiamo a vedere qua in panchina chi c'è. Pandic. Vinicius. Allora, raga, vediamo un po'. Questo qua lo mettiamo... Anche se non fa molta intesa. Vediamolo di qua. Questo qua lo togliamo. E ci mettiamo dove è Monaco. Poi... Questo qua... Questo qua ci possiamo mettere... Attaccante, centrocampista. Non è che va molto bene questo qua. Un RB. Questo qua non è che mi interessa tanto, ragazzi. Vediamo un po' se c'è un panchina qualcuno buono. RB ci abbiamo. Mettiamo questo qua. Ok, raga. Che ci hanno regalato qua? Di pacchette? Andiamo a vedere. Ricompense. 150 coins. Poi che ci hanno dato qua? Un'altra cosa. Ricompense. Altre cosette. Oh, gold repack. E poi... E poi... E poi basta, mi sembra. Per adesso. Per adesso ci hanno dato questo qua. Allora, andiamo a vedere un po' il negozio qua. Andiamo ad aprire qua quest'altre cosette che ci hanno dato. Vediamo un po' che cosa c'è di bello. Ci hanno dato due pacchetti. Uno sono di nuovo le icon pack. Praticamente è un'icona. Oh! 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 Barnes, 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 ragazzi. Altra icona in prestito. Per tre partite. Barnes. Andiamo ad aprire subito quest'altro pacchetto. Gold. Gold pack. Vediamo un po' che cosa c'è di bello. Schifo. Pop, 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 pop. Parapapapapapa. Mamma mia che schifo. Quanta robetta schifosa. Mamma mia che schifezza. Che schifezza. Ma io non comprerei i pacchetti adesso. Andiamo a fare una partita. Vediamo un po' di vincerla. A Little Tank. Benchio, congratulazione. Che mi ha regalato? Che mi ha regalato? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Niente? Ok, ragazzi. Possiamo andare a iniziare a farci una bella Rivals. Andiamo. La squadra c'è. Vediamo subito una partita di oggi. Come va? Perfetto. Vediamo un po', eh. Subito prima partita di FIFA 20, ragà. Con Filippo Inzaghi. Subito prima partita. Mamma mia che emozione, che emozione. Poi, ovviamente, ragà, devo metterla a posto, la squadra. Ci vorrà tempo, piano piano. Prima partita. Higuain, Filippo Inzaghi. Mamma mia. Oh, bella sta maglietta. Vai, andiamo. Vediamo un po' quale mettere. Questa c'è una bella squadra, c'è una bella squadra. Andiamo un po'. Andiamo, andiamo, andiamo. Forza, ragazzi. Forza, 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 forza. Wow, Higuain. Andiamo, ragà. Ma che pallone è? Sembra... Un frutto. Prima partita di oggi, ragà. Vai, 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 vai. Dai, dai, tua. Non c'è la miseria. Uh, bella. Bene, bene, bene. No, ma che fai? Ma che... Viene così, andiamo. Vai, vai, bene. C'ha Vinicius. Ah, c'ha Vinicius. Oh, allontana, bravo. Bene così. No. Aia. Oh, cacchio. Oh, cacchio. Bello. Bravo. Mamma mia, Inzaghi. Oh. Bene, G... Vai, vai, Gigi. Difficile sta partita, cacchio. Oh, centrale. Dai, muoviti. Vaffanculo. Ma che cazzo. Gol, stupido. Dai. Dai, dai. No, tira. Ma... Ma che fa? Perché non tiri? Porca cazzozza contropiede. Ah! Ma va a cacare! Ma che culo! Ma che culo! Vai, Inzaghi! Dragoni! Ma che culo! Eh, vabbè, questo già c'era la squadra perfetta, beato lui. Eh, vabbè! Yo, yo! Yo, yo! Dai! Ma non le fa a ste minchiate Ma che cazzo Dai porti a Evara Oh ma che fate E che cazzo Devo far sostituzione raga Ma che fai Ma perché tiri Chi ti ha detto di tirare La vedo tragica Prima partita Mamma mia Partita dura C'è da lavorare parecchio Su sta squadra Togliamo i guai Ne mettiamo un attaccante Che magari fa intesa Italiano Difficile Molto complicata Mamma mia Mamma mia Portiere Portiere Ma poi aspetta portiere di cacca Mamma mia che schifo sto portiere Mamma mia che schifo raga Qua bisogna proprio Comprare giocatori nuovi Mamma mia E' schifo Che merda di squadra Ma che merda di squadra Merda Ma va affanculo Arbitro Ma va a caccare due volte Pure il rosso Tonelli Ma vai vai Ma vai Ma vai a caccare Arca Sozzarellina L'avevo preso L'avevo capito Vanno Vanno Andiamo Vanno assurdo dai portiere eh ma questo c'ha tutti i giocatori forti c'ha Vinicius portiere non la passa a fianco là che questo è un scemotto la via e fa gol fai gol così non ci credo fortiere eh ma che culo superi stessi giocatori non ci siamo raga prima partita la squadra fa cagare dobbiamo ancora lavorare molto prima partita non ci siamo bisogna acquistare giocatori nuovi assolutamente il portiere è un testa di ceppa ma il portiere è un coglione ma beautiful un cazzo beautiful goal ma cosa dai raga è ingiocabile che squadra di merda guarda che culo vince tutti i rimballi tutti i rimballi vince non ci sono ma spazio col cazzo spazio col te dai 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 via la mannaccia a te guarda che culo bravo vai ma cosa salvatore monaco portiere fai cagare io non ho parole fa cagare come si fa a prendere i gol così dai buonanotte queste tre ore per passare ma raga ma il portiere è handicappato non esce rimane fermo esci cavolo non ho parole mamma mia che partitaccia che brutta partita che brutta partita raga mamma mia mamma mia che schifo non ho parole raga qua bisogna comprare giocatori andare sul mercato comprare nuovi giocatori mamma mia mamma mia vediamo un po' che cosa ci hanno dato qua cos'è? 300 credito 300 credito mamma mia ragazzi che brutta partita dobbiamo assolutamente andare sul mercato e comprare giocatori nuovi c'è molto da lavorare con questa squadra veramente difficile veramente dura mamma mia ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al canale scrivete sotto nei commenti cosa mi consigliate di fare vabbè ancora stiamo all'inizio dobbiamo andare sul mercato assolutamente comprare nuovi giocatori fare intesa vedere un po' tutti tutte le tutti gli acquisti da fare e poi scegliere se fare una squadra spagnola oppure italiana di serie A non lo so ancora dobbiamo vedere raga e noi ci vediamo in un prossimo video bella a tutti ragazzi da Gabri è tutto mi raccomando iscrivetevi al canale ciao ragazzi bella bella mamma mia che partitaccia ma chi è questo ancora questo qua questo qua ancora il mocio vileta mamma mia mocio vileta che motivando pure ma nasce a te ma nasce a te ma nasce a te ciao ragazzi al prossimo video passo e chiudo bella 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 pfff pfff grazie a tutti